Gli specchietti retrovisori esterni elettrici possono essere regolati quando l'accensione è commutata su ACC o ON. Ruotare la manopola per selezionare lo specchietto di sinistra o di destra. Quindi, premere l'interruttore specchietto nella direzione appropriata per regolare la posizione dello specchietto stesso. Al termine, riportare la manopola nella posizione neutra. Su alcuni modelli, gli specchietti retrovisori esterni vengono sbrinati tramite lo stesso interruttore utilizzato per sbrinare il lunotto. Se il veicolo è dotato di uno specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento automatico, è possibile utilizzare questo interruttore per attivare o disattivare la funzione. Quando attivato, il sistema contribuisce a ridurre l'effetto abbagliante dei veicoli che stanno dietro. Regolare sempre gli specchietti retrovisori esterni e interno alla posizione corretta prima di metterci alla guida. Il veicolo potrebbe essere dotato di specchietti retrovisori elettrici ripiegabili che agevolano le manovre in spazi ristretti. Questa manopola viene utilizzata per ripiegare gli specchietti retrovisori. Potete acquistare come accessorio degli specchietti retrovisori che si chiudono automaticamente al blocco del veicolo. Gli specchietti retrovisori si apriranno automaticamente quando l'accensione viene portata in posizione ACC. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione.